Nonostante l'estate non sembra voler andare via, è arrivato il momento di tracciare il bilancio sulle presenze, in particolare da parte dei comuni costieri. A Rosseto degli Abruzzi l'amministrazione comunale ha reso noti i dati dell'affluenza turistica 2023, e questo alla luce di tutte le dichiarazioni effettuate dalle strutture ricettive al fine del versamento dell'imposta di soggiorno. Un bilancio intanto con la consapevolezza di dove siamo e dove vogliamo andare. Un progetto turistico che come dicevo in conferenza stampa è presentato e attuato dal 1 giugno con un nuovo brand, con un nuovo portale turistico, che ci permette in tempo reale di avere anche i feedback dei turisti, di capire qual è il target che avevamo intuito. Oggi abbiamo conferma che il 60% di presenze di famiglie a Rosseto degli Abruzzi deve farci lavorare in quella direzione, con villaggi, kinder club come è stato descritto dall'assessore, ma anche con eventi sia nella stagione calda ma anche nella destagionalizzazione. Insomma, dati che vanno in tendenza con quelli nazionali, ma abbiamo contenuto la crisi, possiamo dire, con presenze confermate rispetto all'anno scorso, con arrivi confermati e con presenze, seppur in lieve o calo, ma ancora in fase di elaborazione, che saranno sicuramente oggetto di miglioramento per il futuro. Dei dati si denota un livello stabile nel numero di arrivi in riferimento all'annualità precedente, circa 80.000. A fronte di questo un decremento nel numero di presenze del 19,17% soggiorni più brevi a parità di numero di turisti. Il calo del 10% di incassi dell'imposta di soggiorno denota un decremento nella presenza molto meno marcato nelle strutture con classificazione più alta rispetto a quelle con classificazione più bassa. Le motivazioni possono essere riferite a fattori economici, ma anche a mutamenti nel modo di fare vacanza. Ad incidere inoltre un mese di giugno complicato dal punto di vista meteorologico. Lavoreremo sui nostri dati, su determinate azioni da fare per promozione turistica e quindi siamo al lavoro con tutta la mia giunta. La promozione si inizia adesso, quindi da adesso fino all'anno prossimo. Non è che dobbiamo aspettare la stagione estiva, quindi dobbiamo promuovere il territorio tutto l'anno, quindi non i mesi di luglio-agosto perché il nostro territorio lo permette. Quindi dobbiamo lavorare per accoglienza turistica e far sì che Roseto diventi una destinazione turistica e non più una località turistica.